ragazze fino a ora vi ho proposto tre look da pomeriggio ora facciamo finta che è un giovedì sera e che mi è arrivato un invito andare a mangiare fuori andare a fare aperitivo e quindi ho messo questa camicia blu elettrica blu elettrico anzi di zara che vi ho fatto vedere questa giacca sempre di zara molto avvitata vedete avvitata con questo volà e poi il leggings quello blu elettrico che ho comprato da calzedonia naturalmente decoltè e borsa nera e questo è il look per andare al cinema per andare a mangiare una pizza per andare a fare aperitivo insomma quello che voi volete diciamo piuttosto così elegante